In cosa consiste il settimo programma d'azione per l'ambiente? Il settimo programma d'azione per l'ambiente è detta la politica ambientale fino al 2020 con una visione al 2050 ed è strettamente correlata a delle comunicazioni precedenti della Commissione europea sull'uso sostenibile delle risorse. In quest'ambito i rifiuti rappresentano una risorsa e quindi bisogna gestirli in maniera tale da minimizzarli completamente reinserendoli nell'economia in modo che alla fine, passando da un'economia di tipo lineare a un'economia di tipo circolare, i rifiuti residui arrivino addirittura ad annullarsi. L'obiettivo è quello di massimizzare il riciclaggio, il recupero di materia, di destinare solo i rifiuti non riciclabili al recupero di energia e di abolire per quanto possibile la discarica che dovrà essere destinata ai soli rifiuti residui. Obiettivi ambiziosi per cui ci dobbiamo già attivare perché sono vicine le scadenze 2020, anche 2030, addirittura per l'azzeramento dello smaltimento dei rifiuti non riciclabili in discarica e quindi è necessario mettere in piedi tutta una serie di azioni per spingere verso la green economy, posti di lavoro nel settore, eco-innovazione e una crescita, come dice il settimo programma d'azione, sostenibile, inclusiva e sempre più verde.